Io penso che comunque incentivare l'utilizzo della moneta elettronica su un traguardo diciamo europeo di normalità. Lo dico perché quando per esempio gli aeroporti tipo Fiumicino erano frequentati da tante persone, tu ti mettevi in fila per un caffè e insomma ti accorgevi che l'unico che aveva monete in mano era l'italiano, gli altri usavano tutti strumenti elettronici. Dopodiché le tematiche sono tante, l'onorevole Rampelli ne ha centrata una, che è quella vera, dei costi bancari sulle transazioni che vengono in parte restituiti, che gravano sulle piccole aziende. Ecco, su questo bisogna lavorare tanto per fare delle convenzioni, degli accordi, perché lo Stato metta proprio diciamo tutta la sua attenzione affinché il piccolo esercizio e comunque la piccola attività sia incentivata a utilizzare la moneta elettronica, quindi sistemi elettronici e in assenza di costi di transazione. Questo è un punto vero della discussione, questo secondo me è un aspetto sul quale l'attenzione del Governo deve essere posta. Poi digitalizzazione vuol dire anche, insomma, incrocia anche con la riforma fiscale di cui stiamo parlando, perché per esempio l'introduzione della fatturazione elettronica e diciamo la prospettiva di abbandonare per le partite EVA o per i lavoratori autonomi il sistema di versamento dell'IRPE fino a conto e in saldo per andare in una direzione di una rendicontazione mensile dovrebbe comunque agevolare l'utente, far sì che comunque il cittadino possa pagare più velocemente le imposte in modo più scaglionato e diciamo corrispondente al montante effettivamente fatturato senza dover versare un acconto sulla fatturazione complessiva dell'anno precedente e quindi con difficoltà in più magari a metà anno a dover pagare cifre insostenibili se la tua attività è stata ridotta in ragione non solo della pandemia ma anche di episodi esterni. Quindi questo è l'argomento della digitalizzazione e dell'utilizzo della tecnologia anche per questo tipo qua è un argomento molto importante di prospettiva e nelle missioni da Recovery Fund c'è anche questa linea, questo cluster, li chiamano così. Grazie, grazie, grazie onorevole Pastorino.